buongiorno inizia il quarto capitolo con la nebbia questa ci piace? questa ci piace? quando ci sono i miei amici mi hai fatto fare una morola si deve preparare a Carlo ha fatto una morola un po' nella politica ciao Carlo ciao Carlo andiamo alla ricerca di Morchelle e di Brugnoli guarda qua non beca niente che buono sono piccolino eccoci un po' indigente sono piccolino guarda che prugnolato guarda qua guarda che prugnolato il quarto 3 maggio spettacolare guarda te le do io le morchelle la funcata è ottima però lascialo pure parecce sono piccole Ditti Ditti faccio guarda qua guarda che spettacolo Ditti vieni qua questi qua guardami a me prima dedica benedì sono dedicato a te e vai vai e dietro e dietro gli amici oh Ditti guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua che prugnolata la funcata è buona la funcata è buona vedete aspettiamo guarda qua guarda qua sta nel lato lì sotto guarda qua sotto la mano guarda qua questo guarda cosa bella guarda la testa gli amici siamo a 1030 metri 1031 metri 1031 metri ma questa è una grande funcata questa è una grande funcata questa è una grande funcata copri 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 entriamo in questo bosco di querce guarda questo prugno selvatico è antico quant'anni hai secondo te va c'ha già le foglie quindi possiamo trovarli è una verpa è una verpa eccola qui è una verpa comunque non la prendi lì non lo chiedi ma guarda non è che ci stanno questa verpa guarda che poi mi trova pure qualche morchello cioè è una verpa sta la verpa ma vuoi dire che non è malodoro lo sai eh lo so Dico stanno puntati vieni a fare i miei saleri qua queste le lasciamo vedi guarda stanno puntati eh in mezzo all'erba guarda la foto Dico guarda 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 siamo sempre alla ricerca di funghi di primavera spugnoli e spugnole guarda queste non sono belle guarda guarda ma è una mananza ok già è tutta roba piccola ad me venire fra 4 o 5 giorni dobbiamo venire fra 4 o 5 giorni e Che fai? Ce li andiamo? Lasciamo? Vado al castello, poi la fungate è ottima perché stanno proprio a cippo. Guarda come sono piccoli. Proprio sotto lo prugno. Guarda come sono piccoli. Proprio sotto lo prugno, proprio sotto lo prugno salvati. Questi qua, no, no, un quadro è quello. Ma che sta a mani fra tre o quattro giorni? Preparati eh. La temperatura è 2 gradi. Ho le mani congelate. Ma che freddo. 7 maggio. Temperatura 0 gradi. Fungata meravigliosa di prugnole. Peccato per il freddo. Mamma mia che mani congelata. Che fungata che c'è. I piccoli lasciamo. Che Warsiblle. Che pica da qua. A presto. Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel prato. Faccio ritrovare, vedi che faccina. Grazie a tutti. Questa è tutta la cerchia. Sono più grandi, vedi? Sembrano gambe secche, ma non sono gambe secche, vedi? E' un poliporo, vedi? Pure questa. Siamo sentiti. Questi sono prugnoli. E questi sono prugnoli. E' un po'. E' un po'. E' un po'. E' un po'. E' un po' di piccolino. E' un po'. E' un po' di piccolino. Dai, dai, fai sopra. E' un po'. il massimo dell'odore prugnoli e pioppini vabbene qualcuno bello Diego guarda che carnosa dove è carnosa eh Diego ce la sono un po' più grande vedi talsi giudini di paloma per scivolare a un po' più grande, altruzzate un po' più grande e più grande che Ой qua metti le pennellate un po' più grande Grazie a tutti. sono a ceppe questa è una cosa bellissima guarda che la ceppe, tutta la ceppe guarda il luogo, guarda che la da riprese vediamo se è bello, è bello doppio ciao al capitolo quinto